Se si riprova a questo salto qua c'ho paura Oddio La macchina ha preso il bordo Si è un pochino storta Però si è salvata in quale Non so cosa è successo ma è andata bene Ma è stato io è strano Qualche salto dopo questo Ora Ma che cazzo è successo Ma che cazzo Clip Non mi serve la clip Sono scammato Che scam incredibile Questo è ufficialmente più grande scam Finora di qualsiasi cosa mai giocato Ma si è bloccato il gioco per 10 secondi E stava andando erata avanti nel background Che significa Che cazzo